A Giulianova è stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio comunale il progetto di riqualificazione dell'area Ex-Adam in Via Trieste, che sarà realizzato dalla società proprietaria del terreno. L'area industriale dismessa a pochi passi dal mare diventerà quindi un nuovo quartiere con edifici residenziali, spazi commerciali importanti e opere pubbliche per oltre un milione di euro. La città si ricuce, questa cicatrice purtroppo oggi in passato è stata invece la fonte di benessere e di nascita del quartiere del Lido, se vogliamo chiamarlo così, del Popolare, perché dallo zuccherificio è nato proprio il quartiere di Via Trieste. Poi per 40 anni questa azienda non ha più avuto modo di operare e quindi un rudere piuttosto che una zona di risulta avevamo proprio nel pieno centro della città. Si è messa appunto una parola fine. Sull'assetto generale dell'area va sottolineata l'eliminazione della torre alta 50 metri. La distribuzione del verde sarà migliore in quanto penetra nel cuore del quartiere. Inoltre verranno realizzate piste ciclabili all'interno dell'area e lungo Via Trieste. Un progetto di qualità che ha tanto verde, piste ciclabili, dei volumi minori rispetto al passato. Non c'è più un enorme palazzone al centro di questa grande area, quindi diciamo un aspetto più armonico che conserva e tutela anche lo skyline. Ma questo non è stato l'unico progetto di riqualificazione approvato durante l'ultimo consiglio comunale. Tanti progetti PNRR sono stati avviati e quindi abbiamo la riqualificazione di piazza dalla chiesa, l'avvio dei lavori per il lascito cerulli dove andrà il museo della civiltà contadina e la grande area dell'ex depuratore nel quartiere annunziata. Questi 4 eventi, queste 4 operazioni portate a conclusione il 31 dicembre credo che cambino davvero il volto della nostra città che è già molto bello.